ragazzi annuncio molto importante allora sono tornato su youtube da domani si rinizia ovviamente con i nuovi video voglio solo dirvi che sono tornato da domani si rinizia la nuova serie di quello che volete ragazzi e buon anno a tutti e vi voglio dire una cosa al volo ragazzi non mancate l'uno febbraio che sto 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 organizzando una sorpresa e poi vedrete l'uno febbraio quindi sul canale non vi spoilerò nulla e mi dico soltanto che buonanotte per dirvi soltanto questo annuncio che sono tornato più carico che mai la cosa veramente importante da dirvi è che praticamente da domani si rinizia il video quindi o alle 3 o alle 4 non mi ricordo comunque siate puntuali già alle 3 alle 3 in punto esce il video e praticamente che vi devo dire buonanotte guardate la nuova serie di dan matteo 12 che è uscita giovedì scorso chi vuole ovviamente non è che devo costringere nessuno soltanto per dirvi questo video che sono tornato quindi ragazzi io vi do un bacione e ci vediamo domani con il video